Ciao, buonasera a tutti, sono Laura De Feulis, organizzatrice del concorso Miss Trans Piemonte Vandahosta. Vi comunico di partecipare al concorso nazionale di Miss Trans Italia Sud America che si terrà alla location a Via Reggi, al Maki Maki. Mi raccomando, siate numerose, vi aspettiamo tutti calorose. Un bacio! Ciao, buonasera a tutti.